Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere il libro 80-20, la formula vincente, di Richard Koch. La grande parte dei risultati che otteniamo deriva da una minima parte di ciò che facciamo. Questa è la dura verità. Quando periodicamente tiriamo le somme, ci accorgiamo che l'80% delle vendite riguarda il 20% dei clienti. Che l'80% delle mail sono indirizzate a meno del 20% degli indirizzi presenti nella nostra rubrica. O ancora che gli affari che abbiamo concluso li dobbiamo ad una piccola percentuale degli incontri che abbiamo avuto. Esistono delle regole utili per individuare le cose e le situazioni veramente importanti in ogni ambito della vita. E per individuarle ci aiuta il principio 80-20, la formula con cui Richard Koch è diventato famoso adattando al mondo del lavoro il celebre principio di Pareto. Lui vuole aiutarci a invertire tale rapporto e a concentrare il nostro impegno a massimizzare i risultati rendendoci capaci di scegliere in modo più consapevole e vantaggioso. Cominciamo subito con il riassunto di questo libro. Aumenta la tua produttività Lavorare tutto il giorno, tutti i giorni ti rende meno produttivo, per ottenere di più devi fare di meno. Circa 50 anni fa i computer potevano fare poco in termini di elaborazione, eppure erano macchine enormi. Ma oggi ci portiamo in tasca computer incredibilmente potenti. La storia di come i computer si sono evoluti corrisponde ad una tendenza più ampia nell'attività umana. Fare di più con meno. E in effetti la storia dell'agricoltura ha seguito un percorso simile. Più di 300 anni fa, quasi il 98% della forza lavoro lavorava nei campi. Grazie ai progressi tecnologici, oggi nei paesi sviluppati solo il 2 o il 3% della popolazione attiva è coinvolta nell'agricoltura. Eppure coltiviamo più prodotti che mai. Questa è la forza trainante del principio 80-20. Il miglior 20% dei nostri sforzi produce l'80% dei risultati. E applicando questo principio ovunque possiamo trasformare le nostre vite. Tendiamo a credere che se passiamo più tempo possibile a lavorare saremo i più produttivi. Eppure se si applica il principio 80-20 ci si rende conto che il modo migliore per ottenere di più è quello di lavorare meno. Diciamo che sei un freelancer e devi portare a termine un progetto in una settimana. Se ti dai tutta la settimana per farlo procrastinerai, passando il tempo non lavorando su ciò che conta. Ma se ti dai solo il 20% della settimana per completare il progetto, quindi solo un giorno, allora lavorerai con impegno ed efficienza. I risultati finali saranno migliori e avrai più tempo da dedicare ad altre cose. Per seguire il principio 80-20 stabilisci una destinazione, traccia un percorso per arrivarci e poi vai a prenderla. Diciamo che volete fare una vacanza. Per prima cosa scegliete una destinazione, poi capite come arrivarci e poi finalmente si parte. È semplice, vero? Per fortuna è esattamente lo stesso processo che puoi usare per cambiare la tua vita e iniziare a vivere secondo il principio 80-20. Quindi per prima cosa scegli una destinazione. Dove vuoi che ti porti il principio 80-20? Rifletti sui tuoi sogni, i tuoi obiettivi e le tue mete. Chiediti qual è il miglior 20% della mia vita su cui vorrei concentrarmi? Ad esempio quando Steve, proprietario di un ristorante a Città del Capo, decise di iniziare a vivere una vita 80-20, identificò alcune aree professionali e personali chiave su cui concentrarsi. Lui decise che le cose più importanti per lui erano avviare un'attività, concentrarsi sull'ospitalità e sviluppare la sua musica rock e l'insegnamento. Una volta che hai seguito l'esempio di Steve e selezionato una destinazione, dovrai trovare il percorso migliore e come arrivarci. Per farlo prenditi del tempo per capire come puoi concentrarti su queste aree con il minimo sforzo, ma con i migliori risultati. Ricorda, non c'è mai un solo percorso. Pensa fuori dagli schemi. Ad esempio se vuoi diventare un venditore migliore potresti prendere lezioni, trovare un mentore, trovare un lavoro di primo livello e così via. Tutto quello che devi fare è capire quale percorso ti porterà dove vuoi andare nel modo più facile e veloce possibile. E infine ricordati di farlo davvero. Devi agire e devi iniziare a muoverti. Ma tieni a mente il principio 80-20. Stai cercando di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. La tua felicità. Concentra la tua attenzione sulle tue isole felici. La maggior parte di noi ha paura del tempo. È una risorsa estremamente preziosa e quindi viviamo la nostra vita con la sensazione di non avere abbastanza tempo per fare ciò che vogliamo. Può sorprendere che il tempo sia una delle aree che possiamo beneficiare del principio 80-20. Una volta che ti impegni a produrre i migliori risultati con il minimo sforzo, devi capire come sfruttare al meglio il tempo che hai a disposizione. Quindi che tu sia un designer, freelancer o un postino, se ti dedichi a lavorare di più per un periodo di tempo più breve, troverai il tuo lavoro migliorato e il tuo tempo libero ampliato. Ma come puoi effettivamente realizzare questo uso efficace del tuo tempo? Puoi iniziare identificando le tue isole felici, i momenti in cui ti senti più felice, e le isole di realizzazione, i momenti in cui sei più creativo o produttivo. E una volta che hai identificato queste isole nella tua vita, puoi massimizzare il tuo rendimento concentrandoti su di esse. Questo è esattamente ciò che ha fatto Richard Adams. Adams era un burocrate di medio livello al servizio civile britannico e il suo lavoro era noioso e lungo, ma sperimentava periodi di felicità al di fuori del lavoro, specialmente quando raccontava storie alle sue figlie. Cominciò a concentrarsi su queste piccole isole felici, poi scrisse le storie che alla fine divennero il suo libro più venduto, Watership Down. Da piccole isole di felicità in un mare di noia arrivò il successo. Quindi, in definitiva, quando lasci andare le tue nozioni sulla scarsità del tempo e inizi a lavorare in modo intelligente, puoi fare miracoli. Soldi e relazioni. Usa il principio dell'80-20 per investire a lungo termine per guadagnare molto o risparmiare in modo incrementale per raggiungere un obiettivo. Come forse sapete, il 20% degli americani possiede oltre l'80% della ricchezza dell'intero paese. E molti di questi ricchi individui hanno seguito la stessa logica 80-20 per guadagnare le loro fortune, nel senso che hanno capito che è possibile utilizzare una piccola quantità di denaro per produrre rendimenti incredibili. In breve, si sono affidati all'effetto del compounding quando i profitti sono messi al servizio della creazione di altri profitti per crescere quantità relativamente piccole di denaro in grandi fortune. Se, ad esempio, investite 10 euro in azioni, diciamo così, che vi portano un beneficio del 10%, questo 10% sarà un euro. Diciamo che il profitto è 10% in un anno, quindi un euro in un anno. Il secondo anno, se non toccate quel profitto, avete il 10% di guadagno su 11 euro, non su 10 euro. Quindi, avete un euro e dieci centesimi. Di conseguenza, passate il secondo anno a 12 euro e dieci centesimi. E così via. Se le somme sono più grandi, ovviamente il compounding, l'effetto composto dei tassi di interesse, continua ad incrementare. E così, in 10-20 anni, le somme cominciano a diventare considerevoli. Anche tu puoi trarre vantaggio da questa strategia finanziaria investendo il tuo denaro saggiamente, ad esempio, nel mercato azionario e pensando al lungo termine, quindi in altre parole, anche se ci possono essere periodi in cui il tuo investimento non aumenta molto, al lungo termine aumenterà. Questo è proprio il segreto dell'effetto composto dei tassi di interesse. Per esempio, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Anne Schreiber mise 5.000 dollari nel mercato azionario e li lasciò lì. Nel 1995, circa 50 anni dopo, il suo piccolo investimento si era trasformato in 22 milioni di dollari. Naturalmente, per investire avete bisogno prima di qualche risparmio e risparmiare non deve essere difficile se lo si fa in modo incrementale. Così, ad esempio, potresti impostare un bonifico bancario che invia automaticamente una piccola parte del tuo reddito, considera il 10%, in un conto di risparmio. questo è quello che Steve e Ellen hanno fatto per iniziare il loro percorso verso l'acquisto dell'appartamento che sognavano e che costava 60.000 dollari. Insieme, la coppia aveva un reddito annuo di 78.000 dollari. Alla fine di ogni mese non avevano quasi nulla, il che significava che non stavano mettendo da parte alcun soldo. Per evitare di spendere tutto hanno incanalato il 10% del loro stipendio direttamente in un conto di risparmio. Dopo sei anni avevano risparmiato 66.000 dollari, il che ha permesso loro di comprare l'appartamento e anche di finanziare le riparazioni necessarie. invece di cercare di accontentare tutti concentrati sulle relazioni che contano di più. Nel mondo moderno le relazioni sono importanti ma molti di noi si sforzano troppo. Nel nostro desiderio di costruire relazioni forti con tutti finiamo per non piacere a nessuno. Anche qui il principio 80-20 può aiutare. Poiché l'80% della nostra soddisfazione nelle relazioni deriva solo dal 20% delle nostre relazioni reali. Quindi per condurre una vita felice dobbiamo concentrarci sulle poche relazioni che contano davvero come ad esempio la relazione marito e moglie. Dopotutto questa è una delle relazioni più importanti che abbiamo. Uno studio ha dimostrato che le persone che hanno ottenuto i punteggi migliori per la felicità erano anche coinvolte in una relazione romantica. Quasi il 40% degli americani sposati dice di essere estremamente felice mentre solo il 23% degli americani non sposati si descrive allo stesso modo. Ma per avere una relazione forte che supporti la tua felicità piuttosto che minarla è importante assicurarsi che tu e il tuo partner siate d'accordo su alcuni valori fondamentali. Circa il 50% dei matrimoni finisce in divorzio il modo migliore per evitare questa cosa è quello di scegliere saggiamente il tuo partner se non siete d'accordo sui valori di base fin dall'inizio non importa quanto impegno metterete nella relazione in seguito ad esempio quando Steve incontrò Ellen lui cercò di capire cosa la rendesse felice ben presto si rese conto di ciò che contava davvero per lei voleva che lui tornasse a casa in orario voleva poter contare su di lui e voleva che lui sostenesse i suoi progetti inoltre amava le sorprese e così Steve si concentrò sul soddisfare questi bisogni fondamentali per rendere Ellen felice e rafforzare la loro relazione per finire possiamo concentrarci anche sull'aspetto più basista di l'area del principio quando si tratta di vivere una bella vita la semplicità è la chiave ma cos'è comunque una bella vita i filosofi hanno passato secoli a discutere questa domanda un filosofo greco Epicuro ha dato una risposta che si allinea al principio 80-20 i componenti fondamentali di una buona vita sono cibo riparo vestiti amici libertà e pensiero lo ripeto i componenti fondamentali di una buona o bella vita sono cibo riparo vestiti amici libertà e pensiero e questo è tutto in definitiva egli seguì inconsapevolmente la strategia less is more quindi meno e di più concentrando la sua energia sui compiti più importanti ed Epicuro mise in pratica questa filosofia vivendo una vita ordinata dal principio della semplicità viveva con sette amici in un villaggio coltivavano da soli tutto il loro cibo e non si preoccupavano di accumulare ricchezza invece passavano il loro tempo a scrivere libri e a condividere idee se vuoi seguire un percorso simile taglia fuori tutto ciò che nella tua vita non ti rende felice considera la storia di Anne che era un account executive di successo e ben pagata nel settore della pubblicità stressata dal suo lavoro e esausta si è licenziata e ha lasciato il suo enorme appartamento per un monolocale cominciò a passare tutto il suo tempo a dipingere un'attività che amava anche se i suoi genitori non approvavano la sua nuova vita e criticavano la sua decisione di lasciare un lavoro sicuro Anne rimase sulla sua strada e alla fine iniziò a guadagnare bene vendendo i suoi quadri così semplificando la sua vita Anne è riuscita a trovare più felicità e successo di quanto avrebbe mai potuto immaginare il principio 80-20 quindi ci dice che l'80% di ciò che vogliamo è generato dal 20% di ciò che facciamo effettivamente in altre parole se capisci cosa vuoi e ti concentri su ciò che ti rende felice sarai in grado di creare di più con meno fai quindi una lista di cose che contano davvero per te e poi concentra la tua energia su di esse così facendo darai la priorità alla tua felicità e alla tua realizzazione e questo ha un ulteriore vantaggio quando ti concentri su te stesso e su ciò che vuoi veramente smetti di sprecare tanta energia preoccupandoti di ciò che gli altri pensano di te questo era il libro la formula 80-20 di Richard Koch un libro che ci insegna come concentrare il nostro impegno per massimizzare i risultati spero che il video vi sia piaciuto vi ringrazio della vostra attenzione ci risentiamo nei prossimi video ciao